In Europa si scatenano gli acquisti, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance In luce sul listino milanese il comparto tecnologia, più 2,78% Consolida i livelli precedenti lo spread, attestando il valore a più 139 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,94% Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, in Italia annunciati prezzi al consumo su base mensile, pari a 0,2%. Su base annuale, lo stesso dato si attesta su 0,6%. Si attende domani dell'Unione Europea la diffusione del PMI Composite delle vendite al dettaglio Attesa una partenza positiva per la borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 9229,75 punti Grazie a tutti!